giornata perché vedo il comune di San Giorgio a Cremano in alleanza col comune di Nola, la città dei bambini e delle bambine è stato un momento forte nella città di San Giorgio, condivisa da tantissimi... Ma lei è stata... Io sono un cittadino onorario di San Giorgio a Cremano e sono contenta che anche loro hanno un'attenzione per il nostro territorio Quindi questa è una tappa? È una tappa, è la prima tappa a Nola, bello e sono contenta che tutte le scuole del territorio hanno aderito, bellissima Ci stanno marecchie scuole anche di Pomigliano d'Arco Sì, questo fa onore a San Giorgio a Cremano che condivide un momento forte con i bambini E il 20 novembre sarà il giorno conclusivo di un'attività bellissima